Daniela Lucernoni, approvazione della modifica del regolamento e conferma in sostanza di quelle che sono le tariffe dell'Atari, critiche del Movimento 5 Stelle. Cosa non vi convince? Non ci convince che intanto sono le stesse tariffe purtroppo da tanti anni. Ci hanno accusato di aver aumentato le tariffe per l'avvio della differenziata, ma non è vero. Anzi, abbiamo dimostrato dati alla mano, che sono sugli atti che stiamo approvando oggi, che con la differenziata si è molto diminuito il rifiuto che si va a produrre e che c'è molto ricavato anche dalla parte differenziata. Quindi si potrebbe fare molto di più, ma si poteva soprattutto attivare la tariffa puntuale che chi fa i rifiuti li paga. E c'erano tutti gli strumenti per poterlo fare. Abbiamo anche appreso che stanno andando nelle scuole a fare una campagna di comunicazione. Noi avevamo lasciato il piano di comunicazione che avevamo fatto in tutti i quartieri, che a settembre 2019 doveva andare nelle scuole, era già tutto pronto, non è stato mai attuato. Adesso ci mandano petrelli, ora fatemi passare la battuta, ma un consigliere comunale non sarà mai un operatore del settore pagato che fa quello di mestiere. Si è parlato anche dei secchioni intelligenti, altra motivazione delle vostre critiche, Lucernoni? Sì, perché basta vedere nelle città in cui sono, purtroppo non è possibile controllare chi conferisce in quei secchioni. E sotto quali finestre verranno messe non si sa i poveri malcapitati cittadini, ma poi ci sono talmente tante persone che vengono da fuori a Civitavecchia, per fortuna, che non potranno sottostare alla logica dei secchioni intelligenti e che lasceranno le buste intorno e si ritornerà a quelli che erano i secchioni di una volta, non è proprio sensato nel 2023. La soluzione è differenziare di più? La soluzione è differenziare di più, differenziare meglio, fare un piano maggiore di raccolta puntuale dei rifiuti. I cittadini hanno apprezzato il fatto che la partecipata viene a raccogliere a casa i rifiuti, anche oltre le nostre aspettative. Fin dall'inizio è stato, per un momento c'è stato uno spavento del cambio di rifiuti, di raccolta, ma poi è stato molto apprezzato. Quindi è su quello che si dovrebbe spingere. I comuni in Italia, che hanno alte percentuali, fanno la raccolta porta a porta. Grazie a tutti.